La Regione Puglia è pronta ad investire fondi europei sulla costruzione del Museo di Canosa e quanto emerso dal vertice tenuto dall'assessore Barbanente coi membri del tavolo tecnico attivato dal sindaco della cittadina. L'obiettivo è realizzare un museo diffuso per valorizzare l'intera zona archeologica integrandosi col Polo Fantino. Il Comune ha già individuato tre siti, la Scuola Mazzini, l'ex Mattatoio e l'area archeologica di Piano San Giovanni. Ma per passare alla fase attuativa c'è bisogno della progettazione. Piena disponibilità è arrivata dagli organismi territoriali, tra cui provincia, soprintendenza, il comitato locale, missione museo e la fondazione archeologica. Senza il progetto però al momento non è possibile fissare il cronoprogramma dell'opera e i costi di realizzazione. L'idea è quella di un museo diffuso, cioè un sistema di poli museali che grazie ai diversi finanziamenti anche regionali per Canosa costruisce un percorso nell'ambito della città che coinvolge fortemente anche un grande edificio scolastico dove ci sarà una sezione didattica di questo sistema museale.